NewsGN TV 20 anni fa, 17 anni fa, il 5 maggio del 1993, mi trovavo ricoverato al nuovo policlinico per un intervento grossissimo, un intervento di gastroduodenocefalo pancreasectomia. C'è praticamente mezzo interno, così il giorno che io dovevo avere questo intervento mi si presentò una delle mie nuove, Miriam, e mi portò questo quadrifoglio come portafortuna. Dopo 12-13 ore di intervento che ho avuto, il professore che mi operò, San Dancio, perché io lo tengo come un santo, stai bene subito, ma come se fosse stato un miracolo. Dopo due giorni già iniziai a camminare parecchio, e così non ho più sentito un dolore per quanto riguarda questo intervento che ho avuto. E allora da allora, ogni volta che io vado per le campagne e trovo un quadrifoglio, lo prendo, lo faccio plastificare, lo do a qualche amico che me lo chiede perché sapevano che io custodevo questo quadrifoglio. Da allora in poi ho preso questo muro per i quadrifogli. Tutti me lo cercano, io li trovo tutt'ora, li vado sempre in cerca, li faccio plastificare per regalarli.